Sono trascorsi alcuni giorni dalla grande vittoria di Renato Pasini alla Coppa del Mondo di fondo e l'euforia in Alta Valseriana è ancora alta e avrà il suo apice la sera in cui tutti i fan accoglieranno con grande festa il campione alla fine delle competizioni. Renato Pasini, campione di sci nordico, cittadino del borgo medievale di Gromo, ha bissato il podio del 2007 a Ribinsk in Russia, aggiungendo un ulteriore trionfo a questa splendida annata sportiva. Che fosse in forma, Renato lo aveva già dimostrato a Davos, dove ha conquistato il bronzo nello sprint a tecnica libera. Poi l'argento nella team sprint di Canada in coppia con il fratello Fabio. E sabato 31 gennaio la vittoria a Ribinsk, una vittoria che lo posiziona al terzo posto di specialità in Coppa del Mondo. Una gran bella gara, partita in sordina con gli sci sbagliati ai piedi e con il rischio di rimanere fuori dalla fase finale. Ma il trentesimo alle qualifiche ha motivato ancora di più il forestale seriano, che sistemata l'attrezzatura ha cominciato a dar battaglia acquistando un ritmo serrato. Nemmeno i 17 gradi sotto lo zero hanno frenato lo sprinter, che attrezzato di passamontagna continuava a spingere sugli sci fino a tagliare il traguardo per primo. Una vittoria che fa morale e che accompagnerà Renato ai mondiali di Limerec, dove lo sprint è a tecnica libera, la specialità degli atleti italiani.